La Pasqua porta nel Sannio anche un incoraggiante dato riguardo alle presenze turistiche. Positivo il segnale che arriva dalle strutture ricettive di città e provincia. Abbiamo riscontrato che l'extralbechiro in città è quasi sold out, gli alberghi stanno sul 30-40% sia in città che fuori città. Agriturismi, bed and breakfast, alberghi e ristoranti si preparano anche per i prossimi due fine settimana, quello della liberazione del primo maggio, ma De Toma ribadisce, manca la programmazione. L'abitudine del turista, soprattutto quello nostrano, italiano, vicino, viciniore o le regioni vicine, è quella di prenotare l'est second anche in relazione alle condizioni climatiche. Dunque è scarsissima programmazione e progettualità. E spiega anche che al di là di fiere ed eventi occorre un lavoro congiunto costante. È necessario per ottenere significativi risultati avere un rapporto pubblico-privato, quindi una rete mista e dare continuità a queste iniziative. Il singolo episodio, come il singolo evento, produce un effetto apparente. La sostanza è che non c'è continuità. Progressi importanti che però non riescono ancora a regalare la finalizzazione del risultato sperato. Abbiamo fatto dei passi avanti perché noi adesso abbiamo chiaro che il nostro è un turista culturale. Le amministrazioni pubbliche hanno iniziato un po' ad ascoltarci, nel senso che i musei sono aperti in queste festività. Dunque qualche passo avanti importante è stato fatto. Manca la progettazione, la programmazione del futuro turistico, quindi la ricerca dei turisti. Grazie a tutti.